Britannici depositari di un rock'n'roll semplice post-punk energico, ecco l'identikit dei The Vaccines, che si attestano fra le novità di un 2011 musicale ancora tutto da vivere. Il loro album di debutto è What Did You Expect From The Vaccines, col singolo If You Wanna. Abbiamo lavorato al disco da tanto tempo e adesso che viene distribuito è bello vederlo nascere. È piuttosto spaventoso perché il giudizio del pubblico si basava su appena due canzoni, mentre adesso ce ne sono undici. È entusiasmante sapere che il pubblico adesso conosce l'intera registrazione. È sempre così, in ogni tour c'è un processo di introduzione, adesso tutto va avanti, è tutto pubblicato. È già il passato. La band si è esibita in qualche piazza iniziale in Gran Bretagna, tutti singolarmente hanno già avuto il battesimo della Rivalda. Il nostro quartetto si è costituito l'anno scorso, ma il processo creativo per le canzoni è cominciato solo alcuni mesi fa. Abbiamo affrontato le canzoni una per una. Sul piano musicale c'erano quattro tipi di fan di musica che apprezzano diversi tipi di cose, in termini di musica pop onesta, affidabile, ma da suonare in modo interessante. Ci piacciono ben come Modern Lovers, Velvet Underground, The Clash. Attualmente ascoltiamo cose anche molto diverse fra loro. E la band è già in tour in Gran Bretagna e Irlanda. La band è già in Cultura in Gran Bretagna. Grazie a tutti.